Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò a sé stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò a sé stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Pace a voi. Gesù entra solennemente in Gerusalemme, acclamato e osannato come il figlio di Davide, colui che viene nel nome del Signore. Gesù entra solennemente, ma va incontro al mistero della sofferenza e della morte. In questo anno stiamo ascoltando il Vangelo secondo San Luca, il quale sottolinea come la storia degli uomini visitata da Dio diventa, passo dopo passo, storia della salvezza, riempita dalla presenza e dall'azione di Dio. Ecco, allora Gesù che entra in Gerusalemme, osannato, ma incontro alla sofferenza e alla morte, è un segno vero di Dio che è entrato nella storia. È entrato in tanti modi, ma ora sta entrando con il suo figlio e sta entrando, andando incontro a quella che è tutta la vita umana. Una vita fatta di contraddizioni e anche di sofferenza e di morte. La contraddizione dell'Osanna, che sarà cancellata dal crocifiggilo. La contraddizione di chi è venuto a salvare e viene ucciso. L'ingresso nella storia del figlio di Dio è cantato da San Paolo nell'inno che ascoltiamo in questo giorno nella seconda lettura, l'inno della lettera ai filippesi. Ecco, Paolo segue quasi passo passo l'ingresso del figlio di Dio nella storia. E incomincia da quando Egli lascia lo splendore della divinità per arrivare all'abbassamento della croce e poi risale per portare la nostra umanità in quello splendore della divinità a cui Egli appartiene. E' come un entrare nella storia per portare la storia in un'altra dimensione. Storia della salvezza, allora è Dio che entra nella storia e la porta nella dimensione in cui l'umano e il divino finalmente si incontrano e si coniugano nel dialogo. E seguiamo allora questo canto all'ingresso di Dio nella storia. Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. La decisione di entrare nella storia parte da un sentimento, perché qui sono sentimenti, ha detto San Paolo, parte da un sentimento di solidarietà. Egli è Dio e nella condizione di Dio, nella pienezza della natura di Dio, non tiene per sé questo privilegio. Ma c'è un ragionamento che avviene all'interno della Trinità. il figlio non ritiene con il Padre e con lo Spirito Santo che questo debba essere un privilegio consumato nell'amore trinitario. Deve essere una condizione da condividere. Come si condivide nella Trinità va condivisa anche all'esterno della Trinità. Quindi questa decisione nasce da un consiglio divino. Lo stesso consiglio che decise la creazione ora decide l'incarnazione, o meglio, con le parole di Paolo, l'ingresso del figlio di Dio nella storia. Ma perché questo ingresso avvenga, c'è bisogno di un gesto in cui la solidarietà diventa concreta. Svuotò se stesso. Ecco, noi vediamo sempre l'incarnazione dal punto di vista del figlio di Dio che prende la nostra condizione umana. E quindi prende la nostra carne, prende la nostra umanità. Ma qui San Paolo, partendo dall'alto, ci fa vedere come per entrare nella storia deve svuotare se stesso. Altre parole sarebbero forvianti. Deve rinunciare alla divinità, deve rinunciare ai privilegi. Lasciamo questo senso dello svuotamento. Perché è questa parola che ci aiuta a capire perché la vita cristiana incomincia e si vive nella beatitudine della povertà. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Questa beatitudine che dà il senso a tutta la vita cristiana è lì. È radicata in questo gesto di svuotamento o per dire la parola del testo greco che conosciamo sicuramente tutti in questa kenosis che è più che spogliarsi e spogliarsi e svuotarsi. È lo spirito nostro che si svuota di tante inutili sicurezze per noi, per il figlio e lo spirito che per amore si svuota per far posto ad altro, per far posto anche per certi aspetti all'ignoto. Ma lui sa tutto, sì, ma la condizione precaria dell'uomo porta con sé anche un senso di imprevedibilità. di ignoto una coscienza che si svuota di una conoscenza per acquisire un'altra conoscenza. Infatti, questo svuotarsi porta il figlio eterno di Dio ad assumere la condizione di servo e ad essere simili agli uomini. in tutto bisognava vedere e essere certi che egli era un vero uomo e quindi l'umiliazione. L'umanità si distingue perché conosce l'umiliazione e il figlio di Dio si conosce come vero uomo perché assume la nostra umiliazione. non solo ma assume anche la nostra morte e siccome porta fino in fondo l'umiliazione della condizione umana prende la morte nella sua infamia l'infamia della croce. Ecco allora l'ingresso l'ingresso che porta il figlio dello svuotamento alla morte infame. Ma tutto questo per permettere a Dio di entrare nella storia umana di entrare in tutta la condizione umana per risollevarla per riportarla in quel privilegio in cui Dio l'ha pensata creandola lascia il privilegio per portarci nel privilegio. L'esaltazione non è l'uscita dalla storia l'esaltazione del figlio dal sepolcro nella gloria della risurrezione non è portarlo fuori dalla storia è elevare la storia dell'umanità per cui per questo Dio lo esaltò potremmo dire per questo Dio ci esaltò e per questo il suo nome diventa il nostro nome la sua vita diventa la nostra vita ma egli sale e in questa esaltazione in cui noi ritroviamo tutta la nostra grandezza e la nostra dignità dobbiamo ritrovare anche la giusta adorazione di Dio nel nome di Gesù che ci ha portato nella nostra dignità ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sotto terra ora l'adorazione non è più soggezione la adorazione e comunione di vita ogni qualvolta gridiamo Gesù Cristo è il Signore noi siamo in comunione con Lui e esprimiamo nell'adorazione il nostro amore esprimiamo nell'adorazione la gioia della gloria dei figli di Dio che ci è stata ridonata ogni uomo proclami Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre che ci ha ridonato questa dignità che ci ha